Ecco qua il nostro presidente, ciao Mauri, sei soddisfatto della giornata? Sì dai, comincia ad andare bene, poi adesso facciamo qualche giro cronometrato, ce n'è di gente, sei riuscito a tirare su un bel gruppo, bravissimo, bravi tutti che siete venuti, siete stanchi? Sempre a manico, eh? Prima sessione di prova, poi iniziamo ai 45 minuti a Mancio, sì, questa è la prova cronometrata, un solo giro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti